Napoli, pubblica questionato e discapita mi diceva che abbiamo l'accento capo sta accendo prima mi schifavano appena bloccando il cunecio suonavo universal a mogo me dice ma sono i platini midi dall'ufficio no app si fa roba fatta notizia chi mi attesta, chi mi arresta tengo un ufato che è scisa all'est vira su scena stacchini e cash c'è sta una volta che è scisa ambrezza carico discondo tipo web sono tipo che è su s'israel andando con l'indelibri l'arena saggio l'era is best scelto aggettivo minampulitana ogni barrami tutorial uno dei migliori per italiani non vuole più in italiana se sbagliamo ripariamo vogliamo rileccendo il gioco sana quando mori noi cagliere mai e noi corteo non è un funerale fra e non è un funerale fra yeah yeah